e questo è uno dei punti della città che mi fa impazzire particolarmente sempre qui a staten island guardate un po questa è la historic richmond town distretto storico pieno pieno zeppo edifici antichi ecco poi spiega che la sede della vecchia chiesa riformata olandese quindi quasi tutta roba che risale al periodo coloniale si tratta effettivamente di un vero e proprio museo a cielo aperto con questi edifici che sono stati ristrutturati oppure oppure collocati qui da precedenti ubicazioni io la prima volta che l'ho visto sono rimasto davvero basito continuiamo a vedere un po' i sprazi di questa historic richmond town che si estende tutta intorno alla Clark Avenue come arteria principale vediamo la gelateria guardate che roba è questa che vi sto ingrandendo la Wurlisers House edificio che venne realizzato dagli olandesi in tempo coloniale come libreria e guardate qui per chiudere l'antichissima chiesetta di Santa Andrea con questo piccolo cimitero annesso e guardate qui per chiudere il nostro corso una torta che ti sia un po' e 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 un po' e